Ciao ragazzi, io sono Nico Dine, siamo ritornati con un nuovo episodio Sfida Creazioni Rosa e oggi andiamo a completare il nostro calcio totale però prima di iniziare ragazzi iscrivetevi al canale, lasciate un piccolo mi piace perché mi aiuta tantissimo e andiamo a farvi vedere la squadra allora, non ho speso molto perché la maggior parte dei giocatori ce l'avevo io però alcuni li ho comprati perché purtroppo non ci avevo tutti e stavo un po' in difficoltà adesso ve li faccio vedere partiamo dal portiere Pickford che mi ha costato 900 poi Cook che mi ha costato niente Kane che mi ha costato 800 Cody è mio, non mi ha costato niente manco questo, Den Donker ok Basham non mi ha costato niente Doble non mi ha costato niente quindi per adesso siamo 89007 Stephens non mi ha costato niente Fletch non mi ha costato niente Rodrigo 2003 invece perché purtroppo mi serveva un attaccante spagnolo che mi faccia intesa della Premier League quindi e questo non mi ha costato niente comunque sugli 3k e mezzo tutta la squadra adesso ve lo faccio vedere di nuovo più piano ok ragazzi questa è la squadra io vado a ritirarmi il mio premio e... se non l'avete fatta fatela in fretta perché fra un giorno scade quindi vamonos calcio totale completato oro prime non scambiabile per sfortuna nostra però fa niente qui abbiamo due pacchi molto molto ma molto belli che li aprirò penso giovedì venerdì comunque ragazzi io vi ringrazio ci vediamo al prossimo ciao ciao